Palla passa, insieme avanti, alla minuto 5, 1-0 Robur nella mischia, il vantaggio dei bianconeri e l'abbraccio di tutta la panchina con i Siena che alla seconda occasione, dopo 5 minuti, al secondo calcio d'angolo trova il gol del vantaggio, c'era andata vicinissima alla formazione di Guido Pagliuca e dopo 6 minuti arriva il gol del 1-0